Sembra un onore indossare questa maglia, abbiamo queste nuove mute nuove, quindi tanta voglia di fare bene, bisogna anche vincere, quella è una cosa importante. Senti, una maglia che magari domenica, come dicevi tu, si spera di battezzare con una vittoria, no? Sì, ovviamente siamo anche dentro casa, quindi dobbiamo assolutamente vincere, è quello l'obiettivo che ho visto. A dire delle maglie, voglio dire, proprio il progetto Amatori va avanti? Il progetto Amatori va avanti, è un progetto fatto con testa e per un futuro migliore.